Dire che siamo tornati è riduttivo, dopo la faida con la major a causa di un artwork non possiamo usare musiche, non possiamo usare immaginette, ho detto vabbè è finita, cioè neanche l'immaginetta proprio, come facciamo a ripartire così? Come non detto, nel giro di 4-5 giorni il record precedente era al ventesimo posto, anche se stavamo andando, se ci facevano finire la giornata l'avremmo battuto, comunque lo battiamo oggi, siamo al diciassettesimo posto della classifica Spotify. Ma soprattutto voglio dire che il monologato podcast prima del, che cazzo è? Mi avvisano di eventuali virus, prima del ban il monologato podcast per la categoria musica era al tredicesimo posto della classifica mondiale, signori. Incredibile, sono veramente, sono, cioè, stiamo portando alto il nome dell'Italia. Questa cosa non si può dire di Yon, Sapo Bulli, come cavolo si chiama, Taxi B, insomma, FSK e compagnia. Ragazzi l'avete sentita la traccia? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, sì, è tutto un gioco, è tutto uno scherzo. Cioè ragazzi, Yon è il figlioccio di Ergitano, di Pepi. Cazzo, io mi ricordo Pepi da poco sulla scena coi miei limiti. Gente umile di cuore, oltre a essere real per le strade. Gente che, se comunque, facevano i cattivi perché erano troppo buoni. Gente che ha tirato fuori due palle e così. Cioè, io non capisco che cazzo gli hai preso a Yon. Non capisco. Perché sta facendo, si sta facendo come tutti quanti. Sta facendo l'ostentamento, la follia. Quando fece l'agguato a Gallagher. Cioè Yon, io non stiamo a parlare di uno che è campione di pugilato, uno che con due destri ti stende, anche se sei un animale. Cioè, stiamo a parlare di uno che, se non sbaglio, è proprio campione nazionale. Insomma, stiamo a parlare di una persona che se ti deve mettere le mani addosso ti spezza. E che i rapper ci fanno i featuring per timore. Per farcisi un po' i fenomeni, per far vedere che sono real. Anche Fedez, quando gli fece il dissing, che doveva fare il feat e poi era il dissing. Cioè, Yon negli anni è diventato proprio un bastardo. Proprio un pezzo di me. Cioè, guarda, veramente. E che fa? Musica di merda, ovviamente. Cioè, prima faceva comunque musica in cui si raccontava. Non è che noi stiamo a parlare del grande artista. Però lo rispettavi, lo stimavi, perché portava avanti una discendenza ideologica. Che è quella degli odei. Adesso è tutto sfalzato. Io non so se ci fosse ancora la buonanima di Ergitano. Se fosse e sarebbe così fiero di Yon. Non lo so. Non lo so, raga. Voi che dite? Voi che ne pensate? Se la state ascoltando su YouTube fate un commento. Se no, scrivetemi in privato sulla pagina. Però, secondo me no. Poi vabbè. A me non mi piace proprio il rap d'ostentazione. Dopo la traccia di Pappa e compagnia ho detto Roma non ha più nulla da offrire. Se non il Pappa lì che fa due balletti. Raga, ma che cazzo state a fare? Gli altri non li considero FSK. Raga, io veramente non li considero. Cioè, questi qua che stanno là a fare i real. Abbiamo Yon che ci proxa. Siamo real. Cioè, raga, non è che Yon è un marchio del tipo sono real per forza perché ho fatto il fit con Yon. Yon ha fatto il fit con un sacco di gente che non vale niente. Sia dal punto di vista rap, sia dal punto di vista della strada. Sia dal punto di vista personale. Cioè, FSK, raga. Ma io non ho nulla contro di loro. Mi piacevano pure i primi video che facevano quella roba tutta particolare. nonostante dei testi che è veramente ridicoli. Cioè, proprio, proprio, vorrei definirli criptici ma sarebbe un insulto alla buonanima degli ermetici come montale. Quindi non lo voglio fare. Però c'è dei testi di puro esercizio di stile becero, ignorante, di bassissimo livello. E qui proprio, raga, ma che stiamo a fare? Ma che è stato... io non so veramente che... Cioè, boh... Ma che cazzo gli è preso a Roma? Cioè, Roma era una delle capitali del rap. Dove sono i Noits Narcos? Dove sono... ma anche i Gel. Cioè, raga, Gel, insomma, faceva roba trash, ma... Cioè, cazzo, se la faceva bene. Dove sono i Metal Carter? Dove sono questi? Ma che è successo a Roma? C'è Roma Rap, Roma Città. Chi è preso? Ma queste sono delle periferie. Queste sono dei delinquenti, tra parentesi. Ma che state a dire? Ma che state a dire? Forse la potete dare da bere a qualche ragazzino di merda, a qualche bambino, ma non a me. Ion, ma ti ripigli? A livello sulla traccia. Ma che ti è preso? Io... Cioè, per carità, oh, ascolti il suo podcast, mi minacci, ci becchiamo di persona, come minimo mi devo portare 200 persone per venire a soffogare a te. Che cazzo, sicuramente non... Non me ne frega un cazzo, non ci manco più a Roma, quindi dico il cazzo che mi pare. Però, ma che stai a fare, Ion? Cioè, prendetela, non fa il matto, prendetela a livello personale, capito? Cioè, nel senso, capisci pure la critica di una persona che ti ha iniziato a seguire, che eri una persona normale, ti ha ripreso oggi, che sei diventato un pazzo, fuori di testa, organizzi i blitz ai ragazzini, poi dici, no, 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 i cazzotti in faccia, no, pugni in faccia, no. Cioè, hai organizzato il blitz, vuoi, cioè, stai a giocare, a umiliare i ragazzini, ti riempi di bambinetti per non farti... Cioè, a me mi è piaciuto quando hai fatto il dissing, gallagher, rettoni, F. Cioè, lì è bello, sputtani sulla traccia e dici il vero. Ma sta roba qua che è? Che è sta roba? Cioè, torniamo, raga, all'umiltà di cuore. Ok? Umiltà di cuore. Perché è quella che fa la differenza. FSK, ragazzi, parla di uno che fa le poste, si fa le riprese, io sono un uomo d'affari. Ma quanto cazzo sei insicuro? Ma ti pare che un uomo d'affari vero entra dentro le poste e gli dice sono un uomo d'affari? Tu lo dici perché sei insicuro, lo dici perché devi farti vedere, lo dici perché sei un ragazzino, ci avrai pure due soldi, ma i neuroni in testa, no. Capito? E infatti si vede da quello che scrivi, caro amico mio. Che tu puoi dire quello che ti pare, puoi avere tutti gli ascolti che vuoi, però la gente ti segue perché sei un pagliaccio. E questa roba che tra parole si spacca, come dice la gente. C'è solo un beat che pompa e voi che dite cazzate, che credete di avere stile. E invece no, sfruttatelo andate a trash. Capito? Questo è il discorso. Allora, raga, vi dico una cosa, i circhi, i circhi sono pieni di pagliacci, gente che ha studiato, gente che spaca, e quelli non pagano un cazzo. Perché non andate a vedere loro piuttosto che seguire questi? Perché continuiamo a dare potere alla monnezza? Cosa c'è peggio della Major? Questi qui.